Abbiamo il controllo del settore Aaaaaahhhhhh 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 Eravamo gli arditi Vala Vittoria! O tutti accappati! Aaaaaahhhhhh God bless this God bless me qualcuno mi aiuti! Il nemico scherzanato! Oh Cristo Che stai? La galleria Posso? Che bella che l'ha bandiera Cristo Ehi! A tu! Aaaaaahhh Proviamo a avviarci pure di più però Lancia una granata! Occhio! Andiamo? Pegnamo sti cazzi Uh no 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 no! Davanti a noi! Visto! Una santa torre! Fanculo bastardi Vatevi! Occhio! Granata! Granata! Porta! Porta! No! Non veniva! Andiamo! Bene! Abbiamo e Occhio! Granataota This ытno! Aia Torna nella zona di combattimento Oh dobbiamoci sto aler cazzo vaffanculo vado a piedi alla cazza vado a piedi era impossibile ce l'abbiamo fatta cazzo 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 grande sio no a me niquiera avanziamo comunque si scagliela sempre agli aeree magari tra quel fuoco di donna che serve expensive dobbiamo abbiare la casetta di Luca capiamoci sto sempre tempello qualcuno ha dei proiettili mi servono proiettili ecco una granata per il nemico lancio una bomba a mano abbiamo conquistato l'obiettivo abbiamo conquistato l'obiettivo c'è qualcuno qua si si vabbè diamo B proviamo si ma la casa di Luca dov'è madonna quanti kamikaze questo questa granata è tutta per noi questa metà delle nostre forze c'è un incognitore c'è un incognitore cazzo c***o è un carro nemico to be ma fanculo ma fanculo ma fanculo c'è un incognitore Sì 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 Allù Sì È Sì 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 Merda Eh, una bella pigna Non sento un qualcuno a me arrivare Tranquillo Vai caccio Vai vai Arriviamoci a Eh, perfetto Eh Dai Eh, eliminano tutti i nemici Ragazzi devono andare Ahia, chi è? No L'obiettivo finale è a portata di mano Faccio una canata Oh Dai gazzo Tutti qua Gas e serascia No, incendiare e si lascia Con Dio Vedi su No Su qualcuno? No, no Ok Andiamo Andiamo a risalire Ci sono altre canati incendiare Aspetta, poi fanno tre la corsa Cazzo Restano 50 dei nostri soldati Eh eh Guarda Guarda Cioè non ho preso nessuno, possibile Cazzo Cazzo No, no Ci stanno ancora i medici Vai ce la facciamo Cazzo 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 È stato promosso Eh non è morto, non è sul tempo adesso Restano 20 dei nostri soldati Eh abbiamo perso Sì Cazzo Fiammere di merda Sì Iniziamo Trattographer Una granata Cazzo No, che merda, vaffanculo Ok, adesso abbiamo 250 target e dobbiamo conquistare un sette solo, dai Abbiamo ancora perso C'è una granata, granata avantiata Vedo un medico Oh, 227, altri 5 minuti No, merda Eh, a granata Un diamo Capo spara, oddio Non è semplice che non riusciamo ad entrare dentro sto forte Non è un po' Bravo Bene, calmiamo che, calmiamo che Ma che bene, non male, ho fatto rispondere a tutti della squadra Vabbè, oh, ma che pang, che complice sono a me Oh, vi piace sta bandiera? Sì, uomini, che le nostre grida di vittoria si odano in tutta Europa Abbiamo fatto irruzione e catturato la fortezza Ora ci uniremo alle unità sulla costa dell'Adriatico per l'atto finale Ciao La vittoria italiana sulle montagne aveva sfondato la linea difensiva austro-ungarica Dividendone le forze Il combattimento si è quindi spostato verso la costa dell'Adriatico Dove le forze imperiali erano pronti a opporre la loro ultima resistenza